Musica Fala lo entriamo No, no, ide Fai prima o fallo con tu, cioè il secondo E' danno No, 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 no Hai un ucino? 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 Non è un ucino? Non è un ucino? Non è un ucino? Non è un ucino? L'ucino è un ucino Squadra della Rodinella che va con quello Nel primo gioco Arriva anche la squadra Sussi e Birivissi Però cade la pallina Eh, Pupo sta già partendo E' bravo E' bravo Sì, però Pelo meno adesso No, secondo me E' passata prima dei birilli E' passata una gramma Oppure No, no, no E' passata una gramma E' passata in un ucino E' passata un ucino E' passata una gramma E' passata una gramma E' passata una gramma Grazie a tutti Grazie a tutti I concorrenti possono già posizionarsi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti